il 2016 è stato un anno molto particolare per tutto quello che è successo nel mondo eventi più o meno attesi per quadrivi è stato un ottimo anno abbiamo lanciato tre nuovi fondi il terzo fondo di private equity il terzo fondo di energie rinnovabili il primo fondo di private debt e abbiamo ottenuto delle performance molto significative in tutti i fondi che gestiamo il 2017 sarà un altro anno molto interessante ci saranno degli eventi significativi a livello politico economico ci saranno delle incognite delle incertezze ma anche molte opportunità infatti tutti noi che operiamo nel settore degli investimenti sappiamo che quando vi sono delle incertezze spesso a queste sono associate le migliori opportunità e noi come quadrivi ci siamo organizzati per saperle cogliere al meglio e quindi auguro a tutti un 2017 da gestire con attenzione e determinazione ma anche col giusto livello di grinta e di ottimismo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti